Camminare fa perdere grassi? Cioè, se intendete che mentre camminate consumate i grassi, ovviamente sì. Ma quanti ne consumate? Cioè, sono veramente pochi, a meno che non fate chilometri, chilometri, chilometri ogni giorno. E basta un piccolo sgarro per praticamente recuperare tutto ciò che si è consumato. Di conseguenza, chi pensa di dimagrire semplicemente andando a camminare, è chiaro che rimarrà deluso. L'alimentazione è sempre un tassello fondamentale. Non basta mai aumentare l'attività per avere un dimagrimento. Serve sempre anche abbinare un'alimentazione adeguata a quell'obiettivo. Fermo restante che comunque il movimento e il rimanere attivi ha dei vantaggi, anche se a livello numerico comporta un basso consumo energetico, comunque ha numerosi vantaggi, come l'aumento della circolazione, dell'ossigenazione, sensibilità all'insulina e altro.